Da qualche giorno sto lavorando alla mano sinistra di Santa Caterina che insieme all'altra mano trattiene una spada. La spada è uno degli emblemi di Santa Caterina d'Alessandria perché è l'arma che le tolse la vita con cui fu decapitata. Quindi sto lavorando alla mano, cosa che piace sempre molto fare perché so che lo ripeto spesso ma amo dipingere le mani, e in più all'elsa della spada che è molto lavorata e metallica, quindi alla quale devo riuscire a conferire questa particolare texture, e poi alla manica del suo vestito, quindi ci sono diverse texture, diversi elementi da tenere in considerazione. Trovo molto bello occuparmi di tutte queste singole parti che poi andranno a formare un tutt'uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.